siamo nella zona di pavono a laghetto comune di castel gandolfo in residence a questo accesso ci sono pochi oneri condominali la recente costruzione quindi la scala comunque molto mantenuta si sale questo primo piano mezzanino come si dice in gergo e questo è il primo vero piano cadastale dove è ubicato l'appartamento calcone davanti che faccia su un'area comunale una piazzetta lo ricordiamo siamo sotto il comune di castel gandolfo quindi una zona molto curata c'è un'area giochi la scuola qualcuno è attrezzato termo autonomo chiaramente è possibile posizionare come vedete un tavolo anche più grande per mangiare fuori la cucina è posizionata in questa zona comunque preparata dal salone da questo disimpegno si accedono una zona notte con il bagno come vedete un vasca molto pomodo lavatrice dietro la porta è posizionata un costiglio o un armadio una camera ampia una camera padronale che ha la possibilità di mettere anche la zona studio e un ampio balcone anche sulla camera all'interno c'è un'area a parcheggio riservato all'interno